Kenshiro sta arrivando. Sei arrivato. Eccomi, Shu. Vengo a salvarti. Moccioso. Se andrai ad aiutare Shu, io ucciderò tutti i bambini tenuti in ostaggio. Kenshiro! È compito mio portare un simile fardello! No! Questa pietra rappresenta la vita degli ostaggi! È il mio dolore per non aver impedito l'ascissione all'interno di Nanto. Tutta la mia sofferenza! Shu, il mausoleo del Sacro Imperatore sarà completo soltanto quando il tuo sangue di guerriero di Nanto fisserà la pietra che stai trasportando. E perché no, eh, Sautzer? Però, questo monumento per il Sacro Imperatore crollerà! Per mano del successore della Divina Scuola di Okuto! È questo il destino di Nanto! Le stelle di Nanto non splenderanno mai come quella dell'Imperatore Celeste! Miio und Ciao!